30 Agosto, Casino Municipale di Sanremo, Main Event e a sorpresa, dopo i 200 partecipanti è spuntato fuori Dario Caterpillar Minieri. Benvenuto a Sanremo, anzi bentornato. Ciao a tutti. E' un ritorno il tuo qui a Sanremo dopo l'EPT, sensazioni? Ma la sensazione sono state fortissime, a rimettere piede in questa splendida città che mi dà tantissimi bei ricordi, grazie anche a moltissime persone, tra cui tu, Daniele e tanti altri. Spero di avere nuovi ricordi dopo il prossimo aprile, di fare un altro buon risultato magari. Allora, torni a Sanremo da campione del mondo? Ma io definisco campione del mondo che vince il Main Event delle World Series of Poker, non che vince un braccialetto. Quindi non mi sento proprio campione del mondo, ma mi sento che ho realizzato uno dei miei sogni, quello di vincere un braccialetto. Ok, allora diciamo che non ti senti campione del mondo, ma gli italiani lo sentono, ti identificano come campione del mondo. Li ringrazio, è una bellissima soddisfazione e spero di guadagnarmi questo rispetto che c'è per me. Fra 15 giorni cominciano gli EPT, Barcellona. Primo appuntamento. Sì, non vedo l'ora, sono abbastanza carico e spero di fare il meglio possibile in questa nuova stagione 2008-2009 degli EPT. Dove naturalmente c'è anche la tappa di Sanremo. Sì. Che per te è un ricordo non indifferente. Spero di creare tanti altri bei ricordi. Comunque sì, Sanremo sarà un torno stupendo. Allora, hai concluso la stagione 2007-2008 con il braccialetto alle WSOP. Per la stagione 2008-2009 aspettiamo noi la vittoria di un EPT. Speriamo. Il mio sogno è di vincere il più possibile. Spero di continuarlo a realizzare, di vincere un titolo per quanto riguarda ogni tipo di torneo. E spero che ci riuscirò. Magari, non lo so quando succederà, però so che per riuscire in qualcosa bisogna crederci. Perché se non ci si crede non si può fare nulla. Io ci credo e anche perché il prossimo torneo che vincerò lo vorrò dedicare a una persona che non c'è più. L'ultimo l'ho dedicato a una persona che è arrivata in questo mondo da poco, la figlia di un mio caro amico. E questo torneo lo vorrei dedicare a un mio amico che non c'è più e mi ha insegnato tanto. Questo è il Dario Minieri che ci piace a noi. Lo lasciamo tornare al tavolo. Ci sentiamo dopo. Un saluto a tutti gli amici di Asso Poker. Ciao a tutti.